A seguire della riapertura del parcheggio coperto di Santa Chiara sono stati cancellati in piazza Caribaldi tutti i parcheggi a spina di pesce che erano stati ricavati provvisoriamente nell'anello interno proprio per sopperire la chiusura dei silos ma nonostante le ordinanze ripristino dell'antica segnaletica gli automobilisti hanno continuato a parcheggiare violando in questo modo le disposizioni della polizia municipale risulta che in una settimana sono fiaccate le multe in due casi vigili urbani hanno proceduto addirittura a sequestro della tua vettura in tutto sono state 50 le contravvenzioni combinate per divieto di sosta con una sanzione amministrativa che oscilla da 29 a 42 euro in più a due veicoli sprovvisti di assicurazione sono stati posti i sigilli i controlli proseguiranno nei prossimi giorni per incentivare l'uso del parcheggio coperto che bisogna ricordare contiene 440 posti auto ed è proprio a seguire o della cattiva abitudine degli automobilisti di parcheggiare anche negli spazi vietati della piazza che il parcheggio coperto di Santa Chiara tanto acclamato risulta regolarmente semivuoto questo basta è la scritta che è apparsa nella busta bianca indirizzata l'ex comandante della polizia stradale luciano bernardi e al suo braccio destro attilio di loreto entrambi avevano effettuato le indagini sui furbetti del sonnellino gli agenti della polizia stradale accusati a vario titolo di truffa e falso e danni dello stato peculato e furto omissione dati d'ufficio omissione di soccorso interruzione di pubblico servizio tutti i fatti avvenuti dal 2019 al 2022 la procura della repubblica di sumona cerca la busta il proiettile in uso esclusivo alle forze di polizia 921 col cappuccio blu e il normografo lo strumento tecnico che è stato utilizzato dagli autori per scrivere la frase intimidatoria la perquisizione ordinata dalla procura a carico degli 11 sotto indagine ha dato esito negativo 20 poliziotti del commissariato della polizia stradale dell'acqua l'hanno passato a setaccio ufficio abitazioni veicoli degli indagati che hanno ricevuto avviso di garanzia ma l'indagine non è chiusa gli accertamenti investigativi si concentreranno sulle eventuali impronte digitali sulle telecamere di videosorveglianza collocate nei pressi delle abitazioni dei due presi di mira per cercare elementi utili a risalire agli autori non si esclude una perizia balistica sul proiettile intanto gli 11 poliziotti hanno respinto le accuse per il tramite dei propri legali preparano le contromosse piena solidarietà per i colleghi che sono stati colpiti da questo attacco vile infame da parte di ignoti estendiamo la nostra solidarietà a tutti i colleghi della sottosezione della polizia stradale di prato la peligna che stanno vivendo dei momenti difficili siamo certi che la magistratura farà luce su quanto è venuto nell'individuare l'eventuale mandante di questo attacco ignobile commenta claudio ciucci segretario regionale del sindacato fsp della polizia di stato intanto i legali difensori precisano che le scuse non possano essere minimamente riferite loro assistiti portare a sul monale istituto tecnico superiore del turismo sta lavorando su questa proposta l'assessore comunale a ramo andrea ramunno che ha convocato nel frattempo il tavolo con gli operatori del comparto per il prossimo 24 aprile si tratta del primo incontro ufficiale tra il neo assessore gli abbergatori e titolari di strutture ricettive che servirà per fare il punto della situazione voltarsi indietro verso la pasqua da capogiro analizzare i numeri delle presenze turistiche in città nei musei cominciare a programmare l'estate buttando un occhio anche al natale per il quale si sta lavorando in grosso anticipo con un progetto organico per la prima volta sul tavolo non solo dati già sviscerati ma anche proposte concrete come quella dell'its credo che sia uno strumento importante per la formazione del turismo c'è una grande fatica nel reperire mano d'opera e lavoratori stagionali per incrociare domande offerta sul mercato l'istituto serve quindi per formare figure che riescano a lavorare tutto l'anno individuare professionisti che non siano improvvisati ne beneficerà l'intera filiera dell'accoglienza sostiene ramuno pronto a dare forma e sostanza progetto che per il momento può contare su 5 mila euro di investimenti dalle casse comunali dove sarà collocato fisicamente l'its si vedrà in seguito una bella sfida con queste parole la dottoressa gianna tollis commenta la sua nomina come nuovo primario del reparto di pediatria dell'ospedale di avezzano una sfida iniziata martedì scorso in un nosocomio che la tollis non conosce ma nel quale è pronta a mettere in campo tutta l'esperienza maturata negli anni 18 trascorsi nella sua sulmona dove è presa servizio nel 2006 in quel reparto che oggi è costretto a lasciare in difficoltà giunge la tollis perché adesso nel reparto di pediatria dell'annunziata sono rimasti solo in tre intanto avezzano accolto la nuova dirigente che oltre alla professionalità e competenza in campo medico porta con sé un bagaglio di esperienze nel sociale come dimostrano le attività che da anni la tollis porta avanti come coordinatrice nazionale del dipartimento di pari opportunità della will fpl come presidente dell'associazione la di osa impegnata nella lotta contro la violenza di genere nella promozione delle pari opportunità il nome della tollis si aggiunge a quelli degli altri direttori di unità operativi complesse arrivati all'ospedale di avezzano dove spiega il direttore generale dell'ase freddinando romano abbiamo mantenuto l'impegno portando a termine tutti i concorsi banditi da questa amministrazione dopo sul mona castel di sangro continua la campagna di sensibilizzazione contro le truffe condotta dal comando provinciale dei carabinieri due le appuntamenti in programma domani 19 aprile nella località dell'alto sangro il primo alle 16 e 30 presso la parrocchia di santa maria dell'assunta il secondo alle ore 18 presso la chiesa di san giovanni battista dove il capitano giuseppe testa comandante della compagnia incontrerà l'intera cittadinanza per offrire consigli utili su come evitare possibile insidiose truffe reati commessi in maniera subdola da soggetti che approfittano della buona fede e vulnerabilità delle persone appartenenti alle fasce più deboli della popolazione consapevole di quanto sia importante per far sentire la vicinanza dell'istituzione alla popolazione l'arma invita tutti a partecipare agli incontri che offriranno la possibilità di aprire dibattiti edificanti studiare alcune delle più insidiose manifestazioni del reato di truffa proprio la scorsa settimana un'anziana stava per cadere del tranello la scusa dell'incidente della figlia che aveva investita una persona incinta ma era tutto falso permessi ridotti al minimo per i tavoli all'aperto assurmona la bella stagione debutta tra polemiche risentimenti delle 35 domande pervenute quest'anno al comune per l'occupazione di solo pubblico infatti la gran parte hanno ricevuto il diniego solo sei operatori del commercio sono stati autorizzati a posizionare tavoli sedie de or nello spazio esterno delle rispettive attività nello specifico una domanda è stata bocciata perché viola le norme del codice della strada mentre le altre 28 non hanno trovato accoglimento perché gli esercenti che l'hanno presentata non sono in regola con i pagamenti nei confronti del comune l'amministrazione comunale tuttavia vuole trovare una soluzione tanto che oggi si è tenuto un vertice con amministratori dirigenti del settore commercianti e sogget la società che si occupa di riscuotere la tassa per l'occupazione del suolo pubblico non c'è parere negativo per le singole stanze ma il diniego è subordinato al pagamento del cannone spiega l'assessore comunale al turismo al commercio andrea munno secondo il quale si studieranno comunque tutte le soluzioni per incentivare l'uso degli spazi all'aperto dal momento che le morosità che si sono accumulate in parte fanno riferimento al periodo della pandemia che aveva generato una sorta di confusione normativa per cui si sta studiando una modalità di ratezzazione dei pagamenti per consentire il rilascio dell'autorizzazione discorso a parte per il ristorante rivico del vecchio balzato alle cronache nei mesi scorsi quando la titolare aveva protestato con il comune che le aveva negato l'autorizzazione nonostante la concessione quinquennale in quella strada manca la distanza di due metri tra i tavolini e passaggio delle auto per questo il comune ha intenzione di istituire l'area pedonale sull'intera strada dalle 19 alle 24 per mediare le varie esigenze lavorare in questa città è diventato sempre più difficile tramulta in uscita con la 0 tl e tempi lunghi per il rilascio dei permessi osserva franco ruggeri commerciante che sul punto aveva avviato una raccolta firme qui servono immagini nuove un uomo che ha fatto la storia di questa città è quella dell'italia intera insieme ai partigiani della brigata maiella lasciando un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto il 17 aprile gilberto malvestuto ufficiale della formazione partigiana che giocò un ruolo importantissimo nella liberazione della penisola avrebbe compiuto gli anni e proprio per celebrare tale ricorrenza nell'aula magna del liceo artistico mazzara si è tenuta la cerimonia conclusiva del concorso a lui dedicato il premio gilberto malvestuto rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori del comprensorio di sulmona al premio giunto alla seconda edizione hanno partecipato quest'anno 30 ragazzi studenti del liceo classico video del liceo fermi di sulmona e del liceo turistico e scientifico patini liberatore di castel di sangro il concorso è stato voluto e organizzato dal dipartimento di storia e filosofia del polo liceale ovidio per diffondere i valori della resistenza della pace e dell'antifascismo alla base della costituzione italiana agli studenti è stato chiesto di elaborare un testo partendo da un passo di un discorso tenuto dall'ufficiale combattente del gruppo patrioti della maiella la commissione esaminatrice composta dalla professoressa mirella malvestuto figlia del patriota dalla dottoressa alessandra de nicola fondazione brigata maiella e della professoressa carla la civita già docente di filosofia e storia presso il liceo classico di sulmona ha selezionato i tre lavori migliori sono intervenuti il dirigente scolastico caterina fantauzzi il sindaco della città di sulmona gianfranco di piero il nipote di gilberto malvestuto daniele dimascio e il presidente della fondazione brigata maiella nicola mattoscio gli interventi musicali sono stati a cura di michele avoglio si terrapprezza in piazza umberto primo il prossimo 21 aprile la cerimonia di premiazione della 28esima edizione di frantolio il tradizionale concorso del buon olio peligno quest'anno gli olivicoltori hanno fornito per l'evento 80 campioni di olio quasi il doppio rispetto all'edizione dello scorso anno dimostrazione dell'impegno che gli olivicoltori del territorio mettono alla cura e alla salvaguardia del patrimonio olivicolo del territorio la manifestazione sarà aperta dal saluto di marianna scoccia sindaco di prezza e recentemente eletta vice presidente del consiglio della regione abruzzo seguiranno i saluti il presidente della provincia angelo caruso del dirigente dell'istituto agrario serpieri francesco di girolamo del direttore della bcc di prato la peligna silvio lancione del presidente della fondazione caris pac domenico taglieri l'istituto agrario serpieri tramite gli alunni svolgerà un intervento dal titolo presentazione dell'olivicoltura peligna l'agronomo fitopatologo domenico d'ascenso interverrà sul tema la difesa fitosanitaria sulle avversità dell'olio a conclusione l'annuncio dei cinque olivicoltori e frantoiani vincitori del concorso delle cinque menzioni speciali il tutto annunciato da marino giorgetti responsabile del panel di assaggiatori della regione abruzzo la premiazione sarà preceduta venerdì 19 aprile da un corso di potatura dell'olivo per gli studenti dell'istituto serpieri a cura del dottor luciano pollastri agronomo già funzionario tecnico verso la direzione agricoltura della regione abruzzo sabato 20 invece presso la sala del dopolavoro di prezza sempre in piazza umberto primo il dottor lorenzo palazzoli terrà una lezione guidata all'assaggio dell'olio soddisfatto il presidente dell'associazione rustiche gentile franco volpe per la buona annata del prodotto raccolto e dell'attenzione da parte degli olivicoltori e piccoli proprietari sulla gestione della buona pratica agricola inoltre si sta riscontrando su tutto il territorio peligno il recupero di quella superficie di olivetti abbandonati la nascita di nuove aziende con indirizzo olivicolo e la realizzazione di nuovi impianti e del lavoro dell'università di terramano lo studio che sta portando avanti sulla nostra olivicoltura il presidente intende sottolineare l'importanza raggiunta da frantolio nell'economia sostenibile del territorio peligno e della conservazione della tradizione olivicola che è una delle caratteristiche più identitarie di essa il convegno regionale dei catechisti di abruzzo e molise tenutosi sabato 13 aprile ha rappresentato un momento di profonda riflessione e condivisione per oltre 300 partecipanti provenienti da diverse diocesi l'evento promosso dalla consulta catechistica regionale si è focalizzato sull'identità del catechista esplorando la sua essenziale doppia natura di testimone credibile e abile comunicatore del messaggio evangelico la direttrice dell'ufficio catechistico diocesano suor anastasia de dominicis insieme a un gruppo di catechisti della diocesi locale ha partecipato attivamente al convegno contribuendo al dibattito e alla condivisione di esperienze pratiche il tema centrale della riflessione ha messo in luce l'importanza del ruolo del catechista nel mondo contemporaneo dove la capacità di comunicare efficacemente la parola bella del vangelo è più necessaria che mai il convegno ha offerto ai partecipanti l'opportunità di approfondire la loro comprensione del ministero catechistico e di rafforzare la loro missione di educatori nella fede attraverso sessioni di lavoro momenti di preghiera e scambio di buone pratiche i catechisti hanno rinnovato il loro impegno a essere portavoci di una fede viva e dinamica l'evento ha sottolineato l'importanza dell'informazione continua e dell'aggiornamento per i catechisti affinché possano essere sempre più efficaci nel loro servizio alla chiesa e alla comunità la presenza di un numero così elevato di catechisti dimostra la vitalità e la dedizione che animano le catechesi nelle regioni di abruzzo e molise domenica 14 aprile nel complesso della santissima annunziata sul mona il laboratorio d'arte mav in occasione dei suoi dici anni di attività presenta lo stato dell'arte saul portic una conversazione ed una mostra sul rapporto tra l'arte e l'intelligenza artificiale un doppio appuntamento dedicato alle questioni più attuali della creatività contemporanea che ospiterà ricerche e riflessioni l'evento va specificato al comune di sulona avrà iniziato le ore 17 e 30 nel corsile del palazzo dell'annunziata con l'incontro lo stato dell'arte l'artista noi e l'intelligenza artificiale ad animare alla discussione che sarà aperta dall'intervento di saluto del sindaco gianfranco di piero dalla dirigente scolastica caterina fantavuzzi e di italia galtieri cofondatrice e curatrice del mav ci saranno i contributi di esperti di ricerche e progettazioni su questi temi dopo la conversazione alle ore 19 nello spazio della cappella del corpo di cristo seguità l'inaugurazione della mostra sal portic anime per la tecnologia con opere gli artisti famosi come nilofar mania sadi rezza famori aomed ali famori e in molti altri antonio di marino guiderà i visitatori alla scoperta di una forma d'arte che trova nei media digitali una nuova interpretazione citati argomenti nuovi ovviamente estremamente interessanti per chiama l'arte come già concepita da secoli e nuove forme di arti che potremmo definire di carattere digitale italia galtieri cofondatrice o cofondatore come vogliamo dire del mav questo laboratorio straordinario che ha lavorato per dieci anni e io come testimone posso dire che ha lavorato bene è soddisfatta e beh direi di sì ci troviamo qui al cortile del palazzo dell'annunziata dove abbiamo voluto convocare questa questo pubblico che ci ha seguito per tanto tempo per festeggiare insieme devo dire che la risposta è un po come quella che ci aspettavamo ma anche un po di più quindi siamo soddisfatti sicuramente si parla questa sera di cose un po complesse un po nuove credo ma certamente interessante c'è il rapporto fra l'arte come l'abbiamo concepita per secoli e l'intelligenza artificiale ecco perché questa scelta allora la scelta proprio perché ecco non volevamo solamente festeggiare cioè fare un incontro di tipo emozionale ma anche stare insieme per riflettere e ragionare sui temi dell'arte contemporanea che sono tanti allora ci si è posto un problema di scelta una forma di arte piuttosto che un'altra su cosa potevamo insomma ragionare insieme alla fine la scelta è caduta su un argomento di viva attualità che è trasversale un po a tutti i temi e alle forme di arte contemporanea cioè quale rapporto può esserci tra l'intelligenza artificiale e l'intelligenza umana quando si trovano a che fare con l'arte e questo è un tema che sappiamo non interessa solo l'ambito artistico ma un po tutti i settori dell'attività umana naturalmente nel nostro specifico volevamo e siamo curiosi noi per primi riflettere ascoltare dalla viva voce di chi nel campo opera già da tempo e quindi abbiamo curatori e critici questa sera Daniela Cotimbo Michele Gerace Antonio Zimarino che curano progetti e ricerche molto interessanti proprio su quale può essere la relazione migliore la relazione più propositiva per il futuro tra questi due ambiti l'uomo il diciamo una vita un'arte signor sindaco allora sono dieci anni di queste persone che hanno organizzato il laboratorio hanno fatto tanto noi siamo testimoni credo che loro abbiano condotto in questi dieci anni un'attività un'opera particolarmente commendevole che si tratta un'iniziativa privata alla quale il comune dà convintamente il patrocinio perché riconosce dieci anni di operosa attività fatta soprattutto nella promozione dei linguaggi dell'arte contemporanea questa è una città gravida di cultura classica come anche testimoniato dal contesto che ci ospita ecco la il ruolo importante che il MAV ha condotto sul tessuto culturale della città è stato proprio quello di sensibilizzare all'arte contemporanea tra l'altro valorizzando artisti locali artisti del territorio e di questo l'amministrazione particolarmente grata agli organizzatori del MAV cioè ad Italia Gualtieri e al Rino di Pietro che hanno portato avanti questi dieci anni di feconda attività La celebrazione dell'ingegneria e della passione italiana per i motori ha avuto un inizio trionfale con la conclusione della prima giornata dell'Italia Motor Week 2024. L'evento si è distinto per la presenza del primo ride Popoli-Ponte d'Era, la via di Corradino d'Ascanio, un omaggio all'inventore della Vespa e un simbolo di innovazione e design italiano. Il sindaco di Popoli Terme, Moriondo Santoro, assieme all'assessore allo sport Andrea Marino e ad altre autorità locali, ha dato il via a questa avventura che unisce due città significative nella storia dei motori italiani. Il collegamento con Eugenio Leone da Ponte d'Era ha sottolineato l'importanza dell'evento e la connessione tra le due comunità. I membri del Vespa Club Popoli si sono preparati a intraprendere un viaggio di circa 500 chilometri lungo la via di Corradino d'Ascanio, culminando con la partecipazione al Vespa World Day a Ponte d'Era dal 18 al 21 aprile. Questa manifestazione vedrà la partecipazione dei appassionati e club da tutto il mondo consolidando la reputazione internazionale di Popoli Terme rendendo omaggio all'ingegner Corradino d'Ascanio. Il villaggio ospiterà momenti significativi tra cui l'incontro istituzionale del 20 aprile tra il sindaco di Popoli Terme e quello di Ponte d'Era. Questo evento simbolico di scambio di doni e di dialogo aprirà la strada a futuri patti di collaborazione rafforzando i legami culturali e industriali tra le due città. Questa è l'edizione del Motorexpo che serve come manifestazione preparatoria per la cronoscalata svolta di Popoli prevista 9, 10 e 11 agosto di quest'anno. Come potete ben vedere è sempre molto partecipata quindi è il segno che c'è una risposta importante da parte degli appassionati e da parte del territorio. I ragazzi di Quelli delle Svolte fanno un'opera importantissima, portano colore non solo a Popoli perché seguono tutte le corse del circuito nazionale, quindi i colori che vedete alle mie spalle sono i colori che tante volte vedete nei percorsi dei circuiti nazionali. Quelli delle Svolte sono un gruppo di ragazzi importante perché senza di loro tante cose non si potrebbero fare e di questo dobbiamo solo esserne grati, quindi li ringraziamo per il lavoro che svolgono. Beh è una giornata bellissima, a parte che fa molto caldo, poi chiaramente tutto questo raduno con tutti questi Ferrari di tutti i colori, tra l'altro è una cosa stupenda, poi i Popoli ci accostano in maniera eccezionale. Allora oggi abbiamo voluto onorare l'Associazione delle Svolte di Popoli perché come ben sapete il Comune di Popoli fa parte dell'Associazione dei Comuni dei Motori, città dei motori, come Pondedera e come Maranello e quindi per onorare questo week dei motori siamo qui con un gruppo di ferraristi a Popoli. Ora ne ho fatte sei, ho fatto quattro gare l'anno scorso e due anni fa, essere il più da più giovani di Popoli è un orgoglio perché purtroppo questo è uno sport dove sempre meno i giovani si avvicinano, vuoi magari perché comunque i costi sono abbastanza importanti, però io consiglio sempre a tutti quanti di non smettere mai di credere nei propri sogni, per me era un sogno e dopo tantissimo lavoro finalmente ho fatto l'esordio due anni fa qua a Popoli proprio. L'anno scorso guidavo una formula Wolf, telaio monoscocca in carbonio con motore motociclistico moto, si chiama Thunder 1000, è una macchina che come prestazioni è molto, molto diciamo il rapporto peso-potenza è molto buono, quindi le prestazioni che ha sono notevoli, certo non a combattere con i 3.000 di centimetri cubi è un po' difficile, però diciamo ce la potevamo cavare in qualche modo. Quest'anno sto lavorando per fare un qualcosa di simile, però diciamo ancora tutto bolle in pentola perché ci sono varie vie da percorrere, sto lavorando per fare quel poco che riesco a fare ma farlo bene. Grazie a tutti.